Quasi 2 milioni di euro dalla regione per la rimozione della Posidonia dalle spiagge. Lo stanziamento per il biennio 2020-2022 è di 1 milione e 800 mila euro per far fronte alle ridotte risorse dei bilanci dei comuni costieri, in modo da consentire la fruizione delle spiagge ma contrastando al contempo l'erosione dei litorali. In Sardegna sono 72 i comuni interessati ed almeno la metà, particolarmente nell'ultimo triennio, è stata impegnata nella movimentazione della Posidonia per decine di migliaia di metri cubi a stagione, con un considerevole esborso economico. I depositi di Posidonia spiaggiata, ha spiegato l'assessore Lampis, sono uno strumento di difesa naturale contro l'erosione costiera e dove impediscono la regolare fruizione delle spiagge durante la stagione estiva vanno rimossi dai litorali. Si tratta di attività di gestione ed effettuarsi con criteri adeguati per contrastare l'erosione, nel rispetto delle dune e della vegetazione dunale, salvaguardando l'equilibrio delle spiagge. Il contributo regionale assegnato ai comuni non prevede altre forme di gestione della Posidonia, come la rimozione permanente, il conferimento in impianti di recupero, riciclaggio, lavaggio oppure lo smaltimento in discarica. I comuni, anche tramite titolari di concessioni demaniali, procedono comunicandolo ai competenti uffici regionali e statali allo spostamento temporaneo degli accumuli di Posidonia in zone idonee dello stesso arinile o in aree individuate all'interno del territorio comunale, fermo restando che il riposizionamento è messo nella spiaggia di origine o in altra spiaggia limitrofa, ha concluso l'esponente della Giunta Solinas.